Amici di Football Is My Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua per fare il diario della venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Un turno che, tra le varie cose, ha visto il sorpasso del Milan sull'Inter, anche se i Neurazzurri hanno una gara da recuperare. Iniziamo parlando di Napoli-Inter 1-1, una partita che nel primo tempo il Napoli ha giocato decisamente meglio dei Neurazzurri. Goal a parte ho visto una squadra quadrata e tonica, con delle buone trame di gioco, una manovra abbastanza frezzante, squadra di spalletti che poteva segnare anche più di un gol, contro un'Inter invece slegata tra i reparti, imbrigliata a centrocampo. Unici pericoli alla fine del primo tempo, nati da azioni lungo le fasce laterali. Secondo tempo poi, meglio la squadra di Simone Inzaghi, che la pareggia subito con un gol di Dzeko, anche se dopo l'1-1 l'Inter non ha fatto più di tanto per portare a casa i tre punti. Un pareggio che comunque ci può stare, un 1-1 a Napoli non è un pessimo risultato. Ok, sei stato scavalcato dal Milan, però insomma hai sempre una partita da recuperare, quindi personalmente io non ne farei un dramma. La squadra che ha da recriminare di più è il Napoli, perché ai punti come gioco ha fatto di più rispetto all'Inter e poi nel secondo tempo ho visto una squadra più remissiva e rinunciataria. E personalmente non ho neanche capito i cambi di spalletti sull'1-1 nel finale quando si è schierato con la difesa a tre ed ha tolto Ozyman. Una mossa che ti fa capire come il Napoli non volesse vincere la partita e come non ha la mentalità vincente per arrivare fino in fondo dal mio punto di vista. In Milano poi vince 1-0 in casa contro la Sampdoria e vola al primo posto in classifica. Partita noiosa e spezzettata, soprattutto nel primo tempo. Io a vederla a San Siro. Rossoneri che non hanno fatto niente di che, hanno fatto il loro subito avanti con il gol di Leao, poi non hanno praticamente mai rischiato, anche se nel secondo tempo dovevano essere più concreti e chiudere la partita perché hanno avuto più volte la palla a gol nel 2-0. Alla fine comunque tre punti dovevano essere, tre punti sono stati, anche se la poca concretezza del Milan è un aspetto che non sottovaluterei. 1-1 poi nell'altro big match di giornata, Atalanta-Juventus. Risultato giusto al termine di una partita intensa, combattuta, giocata ad un ritmo sostenuto, con capovolgimenti di fronte ed occasioni da entrambe le parti. Primi 20-30 minuti, meglio la Juve, una squadra aggressiva che ha avuto due o tre buone occasioni da gol, poi nel finale di tempo è cresciuta la Dea. Secondo tempo, un'occasione da una parte, un'occasione dall'altra, passa in vantaggio l'Atalanta con una bomba di Malinoski, ma poi nei minuti di recupero la Juve riesce a pareggiare. Un'Atalanta che ha dimostrato di essere una squadra presente, una squadra sul pezzo, ha fatto vedere delle buone trame di gioco. Ho visto un Goretzka veramente, un, scusate, Cup Miners veramente maestuoso, Cup Miners che è il Goretzka della Serie A. Commentate qua tutti sotto nei commenti, hashtag Cup Miners è il Goretzka della Serie A. Malinoski poi entra e con una delle sue solite fucilate da fuori aria segna il gol del momentaneo 1-0, segno che l'Atalanta ha delle buone alternative in panchina, almeno per quanto riguarda la tre quarti campo. Unico rammarico, l'assenza di Duvan Zapata, cioè se ci fosse, si sentiva l'assenza di una prima punta. E con lo stesso Zapata fuori fino a fine stagione, personalmente io ho un mezzo occhio al mercato degli svincolati. Così per prendere uno che faccia il tappabuchi lo darei. Guarda la Juventus, una buona prestazione, non sono arrivati i tre punti, però comunque ho visto una squadra più offensiva, una squadra che è scesa in campo per vincere. Ottima prova di De Ligt, a parte la sbavatura che ha portato alla punizione del gol di Maninowski, ha fatto delle chiusure molto importanti alla fine del primo tempo. Centrocampo, a parte Locatelli, una gara sufficiente. In attacco poi ho visto dei buoni scambi di posizione ed una buona intesa tra Dybala, Morata e Vlaovic. Dopo l'1-0 dell'Atalanta, la squadra non ha demorso ed è riuscita a pareggiarla nei minuti di recupero. Una Juve che quindi rimane quarta in classifica con l'Atalanta che però ha una partita da recuperare. Bene poi la Lazio, che vince 3-0 in casa contro il Bologna. Vittoria e prestazioni convincenti da parte della squadra di Sarri, che riscatta l'eliminazione dalla Coppa Italia e sale al sesto posto in classifica staccando di due punti la Roma. Roma che pareggia 2-2 in casa del Sassuolo. Una partita noiosa, nonostante il risultato possa far pensare ad altro. Un primo tempo dove nei primi 20-25 minuti ho visto un Sassuolo più determinato e sciolto rispetto ai giallorossi. Poi la gara è andata così un po' appianandosi, non è successo tantissimo. Roma che comunque passa in vantaggio grazie ad un rigore di Tammiebra. Secondo tempo solo una squadra in campo. Nel secondo tempo ha giocato solo il Sassuolo, che sfruttando due errori della difesa della Roma ha ribaltato la partita. Dopo il 2-1 però i miei neroverdi abbassano il baricentro, rimangono in 10 per l'espulsione di Gianmarco Ferrari e nei minuti di recupero la Roma riesce a pareggiarla con il restante. Una Roma che, tralasciando le due papere difensive, scelte di formazione di Mourinho che io personalmente non capisco, sia per quanto riguarda il modulo che la scelta dei giocatori. Non capisco perché continui ad ostinarsi così tanto con Afinaghan, per esempio. Una squadra che, se non riesce a vincere contro un Sassuolo appena discreto e al quale mancavano i due attaccanti titolari, capisci che questa squadra di personalità non ne ha tanta. E poi, altra cosa, quando io vedevo la partita non ho mai avuto la sensazione che la Roma potesse portarla a casa. Ok, è stata in vantaggio poco, però non ho mai detto questa la perdiamo. Per quanto riguarda il Sassuolo, invece, a me personalmente tira un po' il culo, perché a questa gara ce la siamo pareggiata da soli. E il fatto che, un attimo dopo, il 2-2 di Cristante, abbiamo anche avuto la palla per il terzo gol, ti fa capire come la vittoria non fosse propriamente proibitiva. E sono sicuro che con Scamacca e Raspadori in campo questa partita l'avremmo portata a casa. Non ho niente contro De Frel, però lui non è una prima punta, non è un attaccante che ti fa reparto da solo. È un attaccante che puoi mettere nel secondo tempo al sessantesimo quando stai vincendo e vuoi attaccare e vuoi colpire gli avversari in contropiede. Un attaccante rapido e veloce, però non è quel tipo di attaccante che ti fa reparto da solo e ti fa le spuole per i suoi compagni di squadra. Comunque ripeto, un Sassuolo appena discreto, un Sassuolo da sei in Pagella, coppia centrale dove uno ha regalato il rigore alla Roma, l'altro si è fatto espellere, migliore di quelli dietro comunque sicuramente Chiriacopoulos. Centrocampo un po' in ombra, Berardi bene, l'ho visto abbastanza ispirato, più pericoloso della squadra, ha poi fornito l'assist per il gol di Traoré. Traoré tanto elogiato da tutti, io personalmente ci vado così un po' cauto perché sicuramente l'ho visto ispirato, un giocatore veloce, dinamico, che ha creato diversi problemi alla difesa della Roma, ha segnato il gol del 2-1, aveva contribuito prima anche al gol del momentaneo pareggio, però non sempre fa la scelta giusta negli ultimi metri. ed infatti al 94-95 davanti alla porta ha sbagliato il gol che ci avrebbe portato alla vittoria. Un giocatore che a me personalmente piace abbastanza, però è un giocatore non ancora maturo al 100%, un giocatore discontinuo anche nell'arco della stessa partita. Bene poi la Fiorentina che vince 2-1 sul campo dello Spezia, vittoria meritata da parte della squadra d'Italiano dopo una buona prestazione, risultato che poteva essere anche più ampio perché a parte i primi minuti e i minuti dopo al gol dello Spezia nato da un errore della Viola c'è stata solo la Fiorentina in campo. Fiorentina che comunque vince e si avvicina al settimo posto in classifica occupato dalla Roma quindi in piena corsa per un posto in Europa League. Tra le altre bene, molto bene il Verona vittoria 4-0 da squadra pragmatica e concreta contro l'Udinese Verona che tra l'altro fa anche un passo considerevole in classifica. Per quanto riguarda la lotta salvezza invece 1-1 tra Genoa e Salernitana nello scontro diretto una partita mediocre un pari che non serve a nessuna delle due meno che meno al Genoa che da quando ha cambiato allenatore ok è in striscia positiva con tre pareggi consecutivi però insomma se sei sul fondo della classifica e vuoi salvarti queste sono partite che devi portare a casa pareggia poi anche il Cagliari 1-1 in casa dell'Empoli un risultato che ci può stare per la squadra di Mazzari che viene agguantata al terzo ultimo posto dal Venezia però comunque sto venendo un Cagliari più convinto e determinato una squadra che sa quello che deve fare insomma una squadra sicuramente più cazzuta rispetto a quella del girone d'andata e infine la vittoria pesantissima e fondamentale del Venezia 2-1 sul campo del Torino una partita che è andata a fasi primi 20-30 minuti dove il Venezia proprio non è sceso in campo il Toro ha dominato in lungo ed in largo poi la squadra di Juric ha avuto il suo consueto calo il Venezia grazie al cambio di modulo acquisito coraggio una squadra più offensiva e che a cavallo dei due tempi ha ribaltato la partita e poi un finale di partita convulso tra l'espulsione di Occhereke che si poteva anche non dare il gol annullato a Belotti ed con un recupero di conseguenza di quasi 20 minuti ma alla fine nonostante tutte le sofferenze tra punti veramente sospirati e fondamentali per il Venezia va bene ragazzi questo è stato un po' il riassunto dell'ultima giornata di campionato fatemi sapere cosa ne pensate io come al solito vi invito a iscrivervi al canale youtube a seguirmi su facebook a seguirmi su instagram a lasciare un commento a lasciare un mi piace a spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi